La consigliera comunale di opposizione Gisella Botticchio ha protocollato presso l'ente agropolese una nota indirizzata al sindaco Adamo Coppola e all'assessore alle politiche sociali Maria Giovanna D'Arienzo, un documento dove la consigliera chiede al primo cittadino e all'assessore di prendere i dovuti provvedimenti nei confronti di un cittadino già noto alle forze dell'ordine, il quale versa in condizioni di grave disagio psicosanitario. Negli ultimi tempi il cittadino in questione, oltre a diversi furti sul territorio, è stato ripreso anche dalle telecamere di videosorveglianza della Chiesa Santa Maria delle Grazie, mentre portava via numerosi oggetti sacri e altro. Una situazione che sta destando preoccupazione nei cittadini che quotidianamente riscontrano continui furti anche in abitazioni private e locali commerciali. Da Palazzo di Città intanto fanno sapere che si è proceduto ad inviare una richiesta di convocazione urgente di un tavolo tecnico per discutere del caso riferito al concittadino con problemi di tossicodipendenza, che sta creando anche una situazione di allarme sociale nella città di Agropoli. Già durante il lockdown il soggetto è stato attenzionato e gli sono state elevate sanzioni, quindi è stato sottoposto anche a valutazione medico-psichiatrica da parte dell'apposito dipartimento dell'ASL ai fini di accertare la possibilità di predisporre un TSO, ma non sono emersi elementi che potessero andare in tale direzione. L'attività di monitoraggio è giunta fino anche all'arresto del soggetto in data 21 dicembre 2020 durante un tentativo di rivendere della merce di dubbia provenienza, ma non essendo lo stesso pregiudicato, l'autorità giudiziaria provvide a rimetterlo in libertà, sottolineano dal Comune. La questione è stata affrontata con gli organi sanitari e il piano di zona Salerno 8. Quest'ultimo, attraverso la dottoressa Vanna D'Arienzo, ha provveduto con due distinte note, il protocollo 98 del 10 febbraio 2021 e ha sollecitato ancora in data 9 marzo 2021 a richiedere un tavolo tecnico per trattare la questione, ma ad oggi non vi è stato riscontro da parte di tutti i destinatari, alcuni dei quali fondamentali per il tentativo di risoluzione del caso. Ieri, ha detto il sindaco Coppola, convinto dell'urgenza della questione, vista anche l'emergenza sociale venutasi a creare, ha provveduto a richiedere personalmente ancora una volta la convocazione del tavolo tecnico per i provvedimenti del caso, interessando dei fatti per la conoscenza anche la Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, oltre ai competenti uffici dell'Asl Salerno. Sono convinto, conclude Coppola, che sia necessario un intervento deciso al fine di porre un freno alla questione e fornire un aiuto concreto al protagonista della vicenda.